Buongiorno a tutti, con grandi piacere il Comitato Italiano Arbitri da oggi entrerà sul canale YouTube di Ital Basket dove a tutti gli appassionati della palacamestra italiana in particolar modo del mondo arbitrale potrà vedere e consultare i video che il Comitato Italiano Arbitri sta inserendo sul sito ufficiale tip.it.cia dove quotidianamente e mensilmente mettiamo dei video tecnici riguardo i vari campionati della preparazione anche a livello giovanile mettendo in risalto le situazioni di gioco riguardanti anche gli errori arbitrari questo perché vogliamo fare in modo che il mondo arbitrale diventi sempre di più una cucina per capire meglio le attività che gli abiti ogni giorno mettono in campo per questo grande sport grazie a tutti